S.D.M. News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con S.D.M. News, il primo TG degli sport outdoor di montagna. Anche questa settimana è una puntata tutta da vivere con sci e scarpette d'arrampicata. S.D.M. Alpinismo si parte questo fine settimana con un Crazy Weekend. La stagione dello Ski Alp scalda i motori ed è pronta a ripartire dalle nevi del passo del tonale. Gli uomini dell'Adamello Ski Team sono all'opera per regalare ad agonisti e appassionati due gari di sicuro appeal. Questo fine settimana andranno in scena Trofeo Cresidea e Adamello Ski Raid Junior Memorial Stedile. Programma alla mano si partirà sabato con il Trofeo Cresi, prima tappa del Crazy Ski Alp Tour. In gara gli atleti del settore assoluto che testeranno gambe condizione su un anello disegnato ad hoc che già nella precedente edizione è risultato ottimale per riprendere confidenza con le competizioni dopo la lunga pausa estiva. Il giorno successivo spazio le giovani leve con l'Adamello Ski Raid Junior Memorial Stedile. Da sempre primo vero appuntamento per i tesserati fisi delle categorie juniors e cadetti. Focalizzando l'attenzione sulla giornata di sabato ecco tutto ciò che c'è da sapere. Dalle ore 9 alle 11 è previsto il ritrovo concorrenti della prima prova al Passo del Tonale, al Salone Carosello. Ritirati i pettorali sarà possibile salire in quota sfruttando la cabinovia Paradiso e il primo troncone della nuovissima cabinovia da Passo Paradiso a Conca Presena. Tempo indicativo di risalita di due impianti circa 15 minuti. Alle 12 ai 2738 metri di Conca Presena sarà dato il via simultaneo della prova maschile e femminile ad attendere gli atleti un anello da 500 metri di dislivello positivo da affrontare due volte. Anello che prevede inversioni, tratto a piedi, cambi di assetto e discesa in neve fresca. Alle ore 14 in zona arrivo si terranno Flower Ceremony maschile e femminile. Alle 16.30 premiazioni presso la Baracca al Passo del Tonale e Gran Festa di inizio stagione in vero crazy style. Domenica mattina riflettori puntati sulle giovani leve dello schialpe italiano con il consueto appuntamento che da parecchi anni a questa parte segna il primo meeting agonistico della stagione. Non solo una gara ma un happening nel quale ritrovarsi e ripartire senza pressioni o ansia da prestazione. Una giornata proposta in collaborazione con Coppa Dolomiti che per i cadetti al primo anno sarà il vero battesimo del pettorale. Medesimo format del giorno precedente, medesimo ritrovo, start e tracciato. A cambiare sono gli orari e le distanze. Il via è fissato per le ore 10 in zona presena e il dislivello previsto è di circa 500 metri. Un solo giro dei due effettuati nella categoria assoluta del trofeo crazy. A seguire pranzo e premiazioni presso il ristorante Passo Paradiso. Novembre in Trentino è sinonimo di mese e montagna. Vi proponiamo una bella intervista dalla falesia, dal grado puro all'alpinismo vero con Jacopo Larker. Come tantissimi ragazzini e bambini ho iniziato in palestra grazie a un corso del CAI giovanile. Ho provato tanti sport però nel primo momento in cui ho arrampicato ho subito provato questa sensazione di libertà, di felicità. In quel momento ho capito che sarebbe diventata la mia passione. Passati a arrampicare sulle pariti artificiali e in competizione ho sentito il desiderio di vedere un po' di più. Viaggiavo tantissimo per le competizioni ma vedevo semplicemente una palestra. Ho iniziato a sentire il desiderio di vedere cosa c'era lì fuori di queste palestre. Quindi ho iniziato a girare il mondo per arrampicare su roccia, prima su boulder, falesia, poi sulle vie lunghe. Credo che la paura sia un sentimento molto importante perché ci permette di capire quando dobbiamo fermarci. Spesso nei momenti in cui si è veramente terrorizzati, si è paura, magari ci si tira indietro piuttosto che andare a metterci in situazioni veramente pericolose. Sì, per me l'arrampicata non è solo la mia passione ma un mezzo per scoprire nuove culture, viaggiare, confrontarmi con il mondo e soprattutto anche maturare e crescere come persona. Se tu dovessi dare un consiglio a un giovane che vuole avvicinarsi a questa disciplina sportiva, quali consigli gli daresti? Attualmente è molto semplice, è pieno di palestre sia indoor che all'aperto. La cosa più importante è se si inizia sicuramente avvicinarsi a questa disciplina con qualcuno di più esperto perché è una disciplina molto sicura però se fatta con le conoscenze necessarie. Quindi questa è la cosa fondamentale. Il secondo punto è sicuramente divertitevi. Aspettando la neve abbiamo incontrato per voi uno dei grandi protagonisti dello schialpa azzurro e internazionale, l'alpino Michele Boscacci. Sta per iniziare una nuova stagione, nonostante la scarsa quantità di neve sulle montagne ho sciato abbastanza quindi sono pronto. Adesso inizieranno fra meno di 15 giorni le prime gare quindi si dovrà arrivare là e dare il massimo. La scorsa stagione sulle lunghe distanze nel finale sono andato molto bene, sono veramente soddisfatto dei miei risultati. Forse l'inizio non è andato così però visto che ormai dobbiamo gareggiare per quattro mesi consecutivi ci sta che non si riesce a tenere gli alti livelli per quattro mesi. Però io sono soddisfatto, quest'anno spero di ripetermi e perché no anche di migliorarmi. I miei obiettivi per quest'anno visto che sarà un anno senza i campionati mondiali sono sicuramente fare veramente bene la gara di casa, la Valtellino Robie che quest'anno sarà tappa di Coppa del Mondo. E poi seguire un po' tutto il circuito di Coppa del Mondo con sicuramente un occhio di riguardo per le gare di lunga distanza che sono quelle che fino ad ora mi sono venute meglio. Ora manca solo la neve ma sicuramente il 30 e il 31 gennaio qua in Albosaggia, la Valtellino Robie tutti quanti daranno il massimo. Vi aspetto sia come spettatori ma anche in gara per questa edizione veramente spettacolare. Anche per questa settimana è davvero tutto, con l'arrivo del freddo andiamo in mood invernale quindi veloce i cambi e giobomba in discesa! SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.